Molta buon dì, buon dì molta. Allora, argomento sempre un doping, con l'accento sulla ing. Allora, doparsi a 17 anni. That's incredible, that's impossible, absolutely no. Sigla! Allora, vi voglio raccontare questa storia. La storia velocemente di questo ragazzo, tanti e tanti anni fa in palestra. Allora si frequentava la Ajax in via Solari, non so neanche se si sta più a Milano. Palestra di vecchia data. Poi dall'Ajax siamo trasferiti all'Olimpia. Va bene, non stiamo a soffermarci sui dettagli. Comunque, questo ragazzino ai tempi aveva 17 anni. Ero molto giovane anch'io, avevo intorno ai 18-19 anni circa, ero appena maggiorenne. E sto ragazzo mi è rimasto impresso, una cosa che già volevo raccontare altre volte. Stavolta mi è venuta in mente, diciamo così, di raccontarlo proprio in relazione all'ultimo video che ho fatto sul doping, no? Sul cavallo di razza. E, beh, insomma, cerco di stringere. Sto sbarbattino ha cominciato a doparsi. Allora non esistevano i laboratori del background, i laboratori sommersi che facevano tutte queste sostanze proibite a basso costo. Non c'erano proprio, non esistevano. Tutto quello che si poteva trovare si comprava in farmacia. E, tra l'altro, c'erano anche sostanze dopanti che adesso non esistono neanche più in commercio. Tipo l'esiclene, me ne viene in mente una. Comunque, adesso nel dettaglio vi dico le sostanze che usava, che mi ricordo, poi sinceramente potrei anche sbagliarmi. Ma se non sbaglio erano... Non potevo sbagliarmi se non sbaglio. Vabbè, portate pazienza. Guardate la faccia da rincoglionito da lockdown che ho e capirete il tutto. Quindi, insomma, usava per l'appunto esiclene, usava testosterone, GH, decadurabolin. Beh, allora, vi dico questo. È stato un'escalation proprio demoralizzante, se vogliamo, e che mi ha anche intristito il cuore. Nonostante fossi molto giovane a quell'età, sei meno predisposto alla pietà e alla pena, soprattutto per i tuoi coetanei. Eppure, veramente, mi sono preoccupato, oserei dire, perché poi sono venuti i genitori in palestra, hanno denunciato, hanno fatto, hanno disfatto. Cerco di arrivare al dunque. Ci vediamo in palestra e cominciamo a fare la panca. Mi fa male il braccio, mi fa male il braccio, mi fa male il braccio, braccio sinistro. Mi fa male... Ah, e usava anche lo stano zololo. Mi fa male il braccio, mi fa male il braccio. Benissimo. Anzi, malissimo. Oh, a un certo punto lo vedi diventare completamente blu. La faccia proprio paonazza. La lingua così, di fuori, tutto blu sulle labbra. Ma è una roba brutta da vedersi. Con la bavetta alla bocca, si era appena alzato dopo la sessione di panca, è andato, si è accartocciato sulla panca e si è girato in preda alle convulsioni. Una roba da vedere che è, insomma, abbastanza fastidiosa. Sto usando un eufemismo, ovviamente. A un certo punto il proprietario preoccupatissimo. Io lo chiamo, guarda, attenzione, salta fuori un altro che cerca di farlo riprendere, di non fargli tranciare la lingua perché stringeva molto, serrava le mandibole. Poche parole, chiamano l'ambulanza, lo riescono a stabilizzare, lo portano via. Benissimo. Due settimane dopo lo rivediamo in palestra. Ciao, Ginetto, Ginetto, Giorgino, abbregativo di Gino. Ginetto, come la va, come la va, come la va, tutto a posto, insomma. Parlo milanese, allora non parlavano milanese, sto parlando io adesso, perché eravamo tutti ragazzini e non si parlava di eletto milanese. Sto io così, reinterpretando da vecchietto, diciamo così. Tutto a posto, insomma. Ma che cazzo ti hanno diagnosticato? Un infarto angina pectoris, alla tua età. Eh sì, non hanno capito come mai, il colesterolo buono era basso, era alto, il colesterolo cattivo, una cosa e l'altra. E insomma, di qua e di là, ma non è che stai facendo uso di qualcosa? No, ma tranquillo, ma io, due settimane dopo, neanche, dieci giorni dopo, lo rivedo in palestra, allora come, eh, mi fa male qui, mi fa male là, mi fa male su, mi fa male giù, poi sono preoccupato, devo dirti una cosa, cosa c'è? Mi chiama, mi porta in spogliatoio, si spoglia, già lo guardavo male, e invece no, poverino, mi ha fatto vedere le palle. E aveva due testicolini veramente ridotti, piccoli, sembrava di che avessi un pisello enorme, perché la sproporzione porta a dare un effetto ottico del pene di un certo tipo, no? Sembra che uno ha il pene grosso, perché sono molto piccoli i testicoli. Cazzo è successo? Allora non è che capivamo molto di steroidi, eh? Ovviamente sapete già cosa è successo, l'atrofia testicolare, ovviamente. Insomma, cercherò di farla breve per concludere. Sto ragazzo, poverino, è stato ricoverato addirittura il mese dopo in psichiatria, probabilmente per demenza di steroidi. Dopodiché i genitori hanno denunciato la farmacia, il dottore che glieli dava, perché c'era un dottore consenziente, questa era di buona storia, questa è questa, ve la dico in poche parole, sto ragazzo era di buona famiglia, gli giravano parecchi soldi, avevano trovato un dottore che sotto il foraggiamento, il foraggio, gli dava le ricette facili, ok? E questo comprava e si faceva senza avere la minima cognizione di causa, senza sapere cos'era una PCT, insomma, stringo in poche parole, questo povero ragazzo si è letteralmente rovinato. L'anno dopo abbiamo scoperto che era in sedia a Rotere per complicanze dovute a tutte le problematiche di connessione neurale, nervosa, insomma, un disastro. Poi non sono entrato nel dettaglio, non è che sono andata a chiedere alla famiglia esattamente cos'è successo, insomma in poche parole, 17 a 16 anni, 17 anni, quello che ha cominciato a doparsi per ritrovarsi nell'arco di un anno rincoglionito, che non scopava più, la fidanzata l'ha mollato perché ghiettirava più, perché poi ha smesso di fare uso di sostanze, avrà avuto un calo testosteronico incredibile, infarti, angina pectoris, paralizzato su una sedia a Rotelle e poi non si è saputo più niente. Ecco, allora uno può dirmi, perché già mi aspetto le risposte dei dopati, e da una parte le comprendo anche, nonostante non le giustifichi minimamente, e cioè, eh ma allora non si sapeva un cazzo, se avesse fatto i dosaggi giusti, se avesse fatto la PCT, se avesse fatto sta bacio du cazzo de minchia, può darsi, sta di fatto, che i danni collaterali, alcuni reversibili e altri irreversibili, quelli sono. Sappiate bene a cosa andate incontro. You know?